Non senti, cioè, si erano amalgamati i capelli, via, si sentivano proprio bene, via. Con la doccia poi aumenta la... Sì, perché più passa nei giorni, capito? Più aderisce, più aderisce e te la senti più tua. Ma infatti, ti dico, ci ho addormito anche un mese. È chiaro. Non ho sentito bene. E c'aveva una ionizzazione base, perché la prima di 30 giorni sono quelli. Però ognuno c'è il suo vestito, qualcosa. Sento, certo, certo. Dipende poi cosa fai, c'ho gli sportivi di alto livello, se le nasce ore al giorno, c'è quelli due alla settimana. Sì, o il sabato. E? C'è il centro di lomo? No, 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 no. Sì. Sono molto fatti di giurale, non si può fare. Sono fatti fatti di giurale, cazzo. Sì, si diventa. Sì, ci è un problema. No, c'è un repro Saying. Ah, ci sono due pillaglie che non bisogna dire, chi prende velo. Sì, senza forbei ciudimande. Unvent' profissa. Sì, periałe, adesso... Pov others' Sì. un po' è la bicicletta il cattivo si può fare anche lo spazio puoi fare anche lo spazio lì non puoi fare anche lo spazio lì non puoi fare anche lo spazio lì stai in 100g sì, sono anche più bellini non so proprio lì non so proprio lì sono molto più bellini vedo spazio lì è un po' più condensato qui si è spazzinato morbido è un po' più rapida che è un po' più migliore questo è è giusto dal video o dal video? è giusto è giusto è giusto è giusto è giusto il video si scelta poi per quel discorso lì quando se la mette nelle prime 24 ore magari la staccatura poi si abbassa infatti una volta ho fatto un mio amico a lui l'ho dovuto dire perché lo conoscevo da più tempo adesso mi devi dire cosa hai fatto perché vedeva lì no vedeva che dalla punta che si funzionava lì c'è stato in Surchia ed io in Surchia ti fanno questi miracoli io l'ho detto io l'ho detto io l'ho detto io l'ho detto è bello la dura è ancora più bello si abbassa poi più che aumenti l'alimentazione più che si abbassa ti fa diventigella? ma che rispetto si si ma se cosa sei una spuntatina davanti si i porti tirati su ti stanno meglio ti chiudo meglio su ok poi quello lì non lo puoi separare in maniera diversa bello bello complimenti vedo che hai a tornare a scuola eh hai capito? alle superiori hai capito? hai capito il gel? si si se ci vuoi metto poi lo metti su tu ci metti su ai gel se lo mando da un parrucchiale tu devi tagliare prima si si lo voglio ecco l'unica cosa mi raccomando non tagliare da un parrucchiale normale che poi non ricrisca quello quello è importante è vero ora si manda da Fug è il fratello di no ma lui lo ha ma lui lo ha metto un video no non gliele faremo ma sicuramente se vanno da un parrucchiere normale gliele fanno cioè senza problemi no ma se lui entra così si mi dici che mi devo fare e che ti sguardo? a parte se entrano così vabbè sono già tagliati vabbè quello c'è che tu sovrò la storia guarda si apriva qui in culo eh guarda guarda no vabbè poi vedi l'ha concierto che ho portato lui lo resti da vent'anni solo perché lui porta la barbettina insomma quindi ha questo look si capito? da turista si ma tu poi lo gestisci da solo questa casa?